Musica Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Scarlet Nexus A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata sempre qui con la fase d'attesa Abbiamo fatto un po' di regali a tutti i nostri companion Ed è bello vedere a modo loro comunque come... Il tutto venga messo veramente in mostra Cioè a parte le chitarre che ammetto di non essermi ricordato per nulla che ce le avevo Però anche ogni singolo piccolo dettaglio come le cartucce che ce l'hanno tutte e due O le sfere di cristallo, i profumi Sono tutti piccoli dettagli davvero belli da vedere Per esempio la scatola qua degli attrezzi che non hanno... Cioè l'abbiamo regalata una volta solo al tizio e... Ah guarda gli snack le hanno spost... Ah gli snack sono da tutte e due le parti Ma che bello Questi dettagli li adoro veramente Tant'è che prima di avanzare vorrei... Siccome ho visto che anche ad altri personaggi alcune cose interessavano Per esempio il piumino per spolverare per qualche motivo a lui potrebbe piacere Tanto varrebbe prenderlo visto che i materiali ce li abbiamo Il set di strumenti può piacere a lei E poi c'è questo, il programma V per il plug in paralleli Questo sembra una roba molto 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 costosa effettivamente Quindi per adesso aspetterei Quindi abbiamo il piumino e il set di strumenti Allora Shiden tieni qualcosa per pulire Ah guarda che bello stanno leggendo entrambi Vediamo scusami Allora lui c'averebbe quello dei Septentorion lì E lei c'ha quello sulla scienza E sono diversi Potevano benissimo fare un'animazione unica Con lo stesso strumento e invece hanno fatto due cose diverse Bello Allora beccati il piumino Vediamo, secondo me Che cazzo è sta roba? Perché mi regali sta roba? Vediamo Con questo riesco a pulire tantissima polvere Aspetta lo stavo solo reggendo Ok Shiden Ah Che culo Siamo avanzati con il piumino merdoso Certo Tutto quello che vuoi Shiden Tutto quello che vuoi Vabbè E se lo dice lui Bravo Shiden Così ti voglio Livello 3 con un piumino delle balle Velocizza il recupero della barra sassa elettrica Va bene Hai ricevuto lavagna di sughero Ah Ok Qualcosa impedite E tutto questo per un piumino per pulire Shiden Va bene Un piccolo lavagna di sughero usata per prendere per memoria e foto Per coloro che preferiscono stampare su carte E usarli come decorazione Piuttosto che conservarli in formato di G3 E portato come visiogrammi Ah Ah aspetta Ma quindi questo è nostro Cioè questo è il nostro tavolo Bello Mi piacciono le foto stampate Grazie L'ho apprezzo tantissimo Shiden Davvero Tant'è che penso che con gli strumenti saliamo di livello anche con lei a questo punto Beccati anche tu gli strumenti Vediamo dove li metterà nel suo angolino Ah che bello degli strumenti Ora posso fare del bricolace Vediamo Sentiamo cosa dice Già è abbastanza facile da usare Considerati assunti a disposizione strumenti del centro assistenza di Arashi Vediamo dove Secondo me li mette sotto i cuscini Vicino ai cuscini Ah no c'ha proprio uno spazzetto qua vicino Puoi prendermi la soda dal frigo Beh è vero Beh ti ho regalato dei dolcetti apposta Ah vabbè allora va bene così Ligame livello 2 Miglioramento velocizza recupero E dell'iper velocità Quando subisce un attacco C'è la possibilità che Arashi con faglia Ok E si protegga Benissimo Livello squadra Yes Hai decorato il rifugio con foto di un momento di pausa Dov'è? Scusami Allora abbiamo la lavagna E ci hanno appena regalato delle foto Ah eccole Ma che bella Va bene Non abbiamo più nulla da fare A saperlo lo facevo l'episodio scorso Pensavo veramente che Cosa sta facendo? Ah sta duplicando le scatole Pensavo veramente che Sarebbero stati due regali delle balle Così invece Hanno avuto un impatto importante Non me lo aspettavo Vuoi riposare? Sì Eh regione Però Molti strumenti di poi La cassetta non si vedono in queste immagini Io dubito che la salveremo comunque È vero Solo per questo Nessun altro motivo No sto bene adesso Eh dai Meno male Però scusa Vabbè Lo dico dopo E penso che non sarà mai stabile Quanto Karen comunque Dovrei essere io il capo E infatti Infatti non lo useremo sempre Tranquillo Vero Sì mamma Tutto quello che vuoi Esatto Perché tanto Sì dai Uniamoci alla ribellione Sì siamo con Karen ora Ah beh dai Neanche pochi allora Mi chiedo se combatteremo di nuovo con Yuito e la sua squadra però Immagino di sì però Ah bene siamo il primo plotone addirittura Ma come? Ma c'è Chioca che è qua da 200 anni Dovrebbe essere lei il capo Il fatto che c'è l'idea di persona E l'osco Beh cosa c'era di diverso dal solito Kagero Meglio dividerli Quelli che creano problemi No Ah beh certo Meglio essere i soldi Che avere gente strana Mi chiedo come sarà il quartiere generale a Seiran Riprendersi ciò che conta Ehi Karen Sei sempre antipatico Arashi Porca troia Sta zitta un attimo L'importante è che mi prestate la vostra forza E cos'è che vuoi tu? E cos'è che vuoi tu? Bezzini Ah strano Questo è vero Karen Non mi hai scelto per quella Questa mente qui Ah il buco nero Sono delle stelle quello Esatto Zittati un po' Tanto sicuramente Karen lo sa che siamo stati nel futuro Ti devo tirare un altro pugno Era enorme Ma mi chiedo se il futuro stia effettivamente cambiando Sta andando nella direzione in cui deve per ora Però scusami un secondo L'altro Karen Dov'è? Quindi proteggerli dagli estranei e tutto il resto E la paga rimane quella? Tua sorella Tua sorella sta bene Tua sorella sta bene Finché possiamo salvare Nostra sorella Eccoci di nuovo Sull'autostrada Vabbè ma quello era ovvio Arashi scusami Grazie di averci salvato allora La cosa bella di questo gioco è che molti degli oggetti che sono piazzati Sono tutti movibili diciamo Allora io vorrei cambiare squadra un secondo ma anche risistemare i sass Visto che adesso abbiamo tutti e quattro i sass disponibili Ok allora la squadra Io direi togliamo arashi e mettiamo kagero Kiyoka la lasciamo perché mi piace il fatto che si duplica Ieri sass vediamo un secondo Allora quadrato duplicazione triangolo invisibilità Ipervelocità sul cerchio elettrocinesi sull'x Ok così mi andrebbe bene Ah però aspetta ora abbiamo anche scusami Ah evoca il visiogramma Oh ma che figo Cioè L1 ci fa gli attacco combo Che bello Tra l'altro a proposito di attacco combo adesso abbiamo con il triangolo con elettrocinesi L'attacco iper è figo dell'altra volta Va bene l'ho visto che dobbiamo farla velocemente Corriamo direttamente Tanto nemici non mi sembra che ce ne siano Tra l'altro si questa è la zona dove abbiamo combattuto l'altra volta e dove è apparso il portale Cosa sono tutti i vestiti bianco dai Tutti uomini d'affari altro che scienziati Hanno avuto anche il tempo di vestirsi questi Sembra un occhio Quasi tutto Ah ecco quello che dovevo dire Vero Tu lo sai Beh l'è attivato tu e quell'altro quindi Appena abbiamo un secondo di pausa Quindi dovreste riattivarlo in due Beh non è il fatto che sia lui la colpa Il fatto che siete andati in due Siete andati in risonanza Oh Aspetta Tu quale Karen sei Casane non mentire Eh digli di Yuito vai Così poi l'ammazza lui Beh era uguale Perché prende i farmaci per non invecchiare Aspetta Non è che è il Karen del futuro questo So Ma tu puoi saltare solo nel futuro e quindi nel presente o puoi andare nel passato? Cioè, questo tuo viaggiare ha un senso logico? Perché a quel punto, se puoi andare solo nel futuro e nel presente, l'altro Karen non ha senso. No, no, no. Allora, tutto ciò, Karen, sincero, dimmelo. Ma perché mi guardi con quella faccia, tu? Esatto, aspetta che ti chiami, no, a sto punto. Non ha di meglio da fare. Oh. Beh, dovresti essere preoccupato anche di tuo fratello. Cos'è servita questa parte? Scusami, siamo andati ad ascoltare sta gente per cosa? No, sul serio. Comunque, quello che volevo dire, in teoria, scusatemi un attimo, se il brain field aumenta i nostri poteri e abbiamo capito che i nostri poteri non sono solo la psico-cinesi, ma sono solo una conseguenza del nostro potere gravitazionale, la gravitocinesi. In teoria, scusami, non dovrebbe potenziare il tutto il potere, quindi dovremmo essere, non ti dico capaci di viaggiare nel presente e nel futuro, ma utilizzare quel potere nello specifico e non solo la gravità. Beh, no, non è vero, l'ho usata un po', eh. Ed ecco qua il tizio di salvataggio. Ed ecco qua il tizio di salvataggio. Strano che non appare nessun nemico. Neanche adesso che siamo in una zona un po' più ampia. Certo, Shiden, tutto quello che vuoi. Eh? Eh, ora arrivo. Ora arrivo. Ciao. Ciao. No, no. Grazie a tutti. 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 In teoria dovremmo tornare al rifugio, però, visto che siamo già in zona almeno combatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta, ok, invisibilità, elettro-cinesi, beccati, il colpo caricato. Grazie a tutti. Duplichiamoci. Ecco fatto. Più che non l'avrei mai pensato. Più che non l'avrei mai pensato. Non avrei mai detto che avrebbe fatto così male. Anche perché ci ricarica un sacco di energia. ecco fatto. Ecco fatto. Perfetto. direi che è il momento di tornare al rifugio. Direi che è il momento di tornare al rifugio, allora. Probabilmente adesso diranno qualcosa tipo, non ci possiamo fidare di Karen. No, 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 no. Eh, dove vuoi che eravamo, Arashi, scusami. Un aspirante assassino. Un aspirante assassino. Mi sembra che nessuno si fidi di nessuno qua, Arashi, scusami se te lo dico. Eh, sentiamo, dai. Me l'hanno ordinato, sicuro. No, se volete ve lo dico. Eh, quello è vero. Beh, sicuramente più occhi ti vedono meglio. Beh, sicuramente più occhi ti vedono meglio. Siamo qui, parliamone, scusa. Eh, esatto. Meno male che c'è nostra madre che ci aiuta. Eh, esatto. Una che copia solo i poteri e una solo veloce non è che può fare tanto. Ok. Certo, brava l'hacker. Ah, aspetta, aspetta. Eh, ecco. Perché? Perché tanto non ho niente da fare. Più siamo meglio, eh. Chissà quanta gente verrà a fermarci. Beh, l'aiuto di uno invisibile sicuramente è utile. Sì, però vi ho messo in una situazione un po' merdosa quindi, Chioca. Ok. Ok. Grazie, Haruka. Navegato. Non mi permette. Hai hai. Prossima fase, di già? Tra l'altro sono sicuro che apparirà il tizio di salvataggio perché lui tanto è sempre ovunque ovunque noi siamo. Ah, perfetto, siamo già qua. Pensavo sarebbe cambiata almeno la fase. Perché ci sono dei quadri? Atrocità nascosta addirittura. Sì, effettivamente. Un posto meno sospetto non c'era. Tizio di salvataggio, ci sei? Ok, è qua in fondo. Beh, tanto vale proseguire allora. In realtà basterebbe che torna al rifugio, ma va bene, proseguiamo ancora un po'. Intanto prendiamo tutti gli oggetti che troviamo. Ad esempio, guarda un po' qui. Chissà Karen se già lo sa oppure no. Secondo me è già sospetta che siamo qui. Secondo me sì. Cavolo è bloccata. Ah no, ce l'ha fatta invece. Mi sembra. Sono un hacker. L'ipervelocità? È già qualcosa, dai. Arashi, quando mai non lo è? Sì. 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 Che vuol dire? Sì. Questa ovviamente immagino sia chiusa. Va bene, andiamo alla ricerca delle chiavi d'accesso tipo Doom. Ok, siamo pieni di cosa leggere. E ci sono degli estranei. Io pensavo che sarebbero stati nemici umani. Sinceramente pensavo veramente che avremmo affrontato, non lo so, della sicurezza, non dei nemici. Dov'è? Dov'è? Ok. Minchia che male. Allora, mi dispiace per la statua. Però porca troia che male. Madonna mia. Allora, electro e duplicazione. Beccati questo. Uno. Due. Tre. E quattro. Madonna. Duplicato quel colpo lì fa un male tremendo. Veramente. Ecco fatto. Aia. Beccati questo. Uno. Due. Tre. Quattro. Madonna. Se ci sono altre statue in sta struttura. Veramente. Distruggiamo tutto. Beccati questo. Beccato. Beccato. Non ho più. Vieni qui. Ah, ma tu c'hai un'armatura. Ah, ecco perché eri così schifosamente resistente. Beccati questo. Ecco fatto. Niente. Più armatura ciccio. Madonna mia. La duplicazione con qualsiasi modificatore del danno. è pazzesco. È veramente. È veramente. Fa male. Fa veramente. Male. Ah. Bella sta struttura. Mi ricorda. Un po' Dark Soul 2. Per come è fatta. Ma anche un po' un Uncharted. sicuramente erano tutti persone. Non oserei dire che sono. Scusami. Non oserei dire che non. Che non siano esperimenti. Ma riusciti. Vieni qui. Aia. Aia. Becca questo. Bramo Shiden. Perfetto. Prima della fine del potere. Aia, ma dai. Vieni qui. Becca di questo. Perché non riesco a fare l'attacco. Che palle. Non riesco a capire. Lui dice di tenere il cremuto. Ma poi quando lo faccio non riesco a farlo. Ecco fatto. Ecco qua. Qua ci servirà sicuramente una chiave. Ovviamente. La chiave di livello 2. E il tizio salvataggio è dall'altra parte. Va bene. Vuol dire che dobbiamo continuare a muoverci allora. Avrei voluto. Non usarlo su di lui. Ma sull'altro. però. Però. Almeno ce ne siamo già liberati. Un veterano della psico cinesi. Eh. Addirittura. Aspetta. Ecco qua. Vieni qui che ti. Faccio il culo elettrico. Faccio il culo. Duplichiamoci. Uno. Due. Perfetto. L2. Certe combinazioni fanno veramente male. Fanno veramente male. Perfetto. 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 Volevo usare. Una combinazione con Shiden. Ma non ce l'ho fatta. Perfetto. 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 Ah. Già. L'elettro cinesi sui macchinari. E chi se lo ricordava più quell'elemento. Ecco fatto. Questa è la chiave. Scusami. Come. Ah ok. Hai ottenuto la scheda d'accesso livello 2. Non era sul pavimento. Era su un tavolo. Ma. Va bene Shiden. Non ti preoccupare. Va bene così. Mmm. Permettimi di dubitare che sia stato un estraneo. Anzi. Penso che sia stato. Qualcuno che lo conosceva. Che l'abbia ucciso. Questa di livello 3. E allora noi salviamo. Quindi signori. Il mistero. Si continua a infittire. In maniere sempre più strane e complicate. Sto veramente facendo fatica a seguire la trama. Ma perché probabilmente come già vi ho detto. Serve vederla da tutti e due i punti di vista. Per avere il quadro completo. Quindi signori. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito se avete seguito. Solite dirmi qualcosa. Sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.